Sono molto molto contenta di essere qui con lui oggi per annunciare un importantissimo protocollo di intesa tra Italia e Albania in materia di gestione dei flussi migratori. È un accordo che arricchisce un'amicizia storica, come voi sapete, una cooperazione profonda tra le nostre due nazioni. Il nostro è un parternariato strategico che si sviluppa attraverso i rapporti commerciali di assoluta eccellenza. L'Italia è il primo partner commerciale dell'Albania e il nostro interscambio vale circa il 20% del prodotto interno lordo albanese, ma anche attraverso scambi tra le nostre comunità presenti in Italia e in Albania, intensi rapporti culturali e sociali, una strettissima collaborazione che già esiste nella lotta a tutte le forme di legalità e che vede una importante presenza in Albania di forze dell'ordine di magistrati italiani.